Mamma, scusa, ma stamattina non è arrivato nessun principe. Quali principe? Quello che ho ordinato ieri notte alla radio per te. Vai, entra. Tutto bene? Sì, perché? Mi succede ogni tanto quando mi emoziono. E niente di grave, è un'emozione bella. Mi scuso. E niente di grave, è un'emozione bella, è un'emozione bella. E niente di grave, è un'emozione bella, è un'emozione bella. E niente di grave, è un'emozione bella. E niente di grave, è un'emozione bella. E niente di grave, è un'emozione bella.